ragazzi e ragazze e soprattutto collezionisti bentornati sul canale lo state vedendo l'avete letto dal titolo me l'avete chiesto in tanti sia qui sotto nei commenti su youtube negli ultimi video sia in direct su instagram finalmente è arrivato eccolo qui l'uovo di pasqua calciatori panini 2021 2022 uovo di cioccolato al latte con all'interno 20 figurine calciatori panini 2021 2022 e un'esclusiva figurina panini la marca è la icam dal 1946 detto questo andiamo subito ad aprire e scopriamo che figurine troveremo all'interno se sono uguali alle figurine cascono nei pacchetti e soprattutto cosa si tratta questa figurina esclusiva andiamo ad aprire apriamo qui togliamo la carta andiamo a slegare qui il fiocco vediamo se c'è altro no perfetto lo andiamo ad aprire eccoci qua vi ho risparmiato un po di rumore di questa carta molto fastidiosa se state vedendo il video lo andiamo ad aprire voi come lo aprite lo aprite così lo aprite così non lo so io lo apro così eccolo qui bustina all'interno e l'andiamo ad aprire e vediamo subito cosa ci possiamo trovare eccolo qui e andiamo a vedere subito la figurina speciale questo ragazzi è il cartoncino ed eccola qua dietro eccola la figurina speciale questo vedete è un cartoncino che comunque metteremo in collezione perché comunque molto carino riprende la copertina dell'album dai ci sta e questa eccola qui ragazzi è la figurina speciale ovviamente quella più cercata per andare ad arricchire la nostra collezione eccola qua figurina esclusiva extra raccolta della collezione calciatori 2021 2022 e visto che ci siamo ovviamente ci andiamo a vedere anche le altre figurine questa lamentiamo qui e andiamo a vedere abbiamo una mascotte poi abbiamo locatelli e melegoni tre giocatori del perugia maximovic del genoa tre giocatori del prosinone tre giocatori del como make magnan del milan andrea consigli del sassuolo rui patricio il portiere della roma luiz muriel ecuban del genoa l'eterno fabbione quagliarella antiste dello spezia scevcenco del genoa che ormai non allena più il genoa perché c'è blessin joel hobby della salernitana bremer del torino che sta facendo davvero una stagione incredibile e chissà che nonostante abbia rinnovato già magari nel prossimo anno lo potremmo vedere magari in un'altra squadra poi abbiamo la maglia del bologna la maglia dell'atalanta quattro scudettini e altri quattro scudettini tra cui quello del palermo che dire ragazzi oggi video velocissimo perché io vi volevo far vedere queste cose vi volevo far vedere l'uovo io volevo far vedere la figurina esclusiva che si trovava all'interno quindi perché farvi perdere altro tempo io vi ricordo che a breve su questo canale porteremo anche adrenalin xl top class e se volete che vi dedichi un'apertura una bustina di questa nuova collezione che in settimana dovrebbe uscire anche in edicola fatemelo sapere qui sotto nei commenti già su instagram stiamo raccogliendo qualche qualche nickname a cui dedicare le bustine o i pacchetti insomma non so voi come li chiamate quindi che dire ragazzi più dediche ci saranno e più bustine io aprirò detto questo con la figurina esclusiva e con il cartoncino che riprende ovviamente la copertina dell'album di quest'anno a me non resta che salutarvi e per quanto riguarda calciatori 2021 22 ci vediamo ovviamente con il film del campionato che uscirà ad aprile mentre per gli altri spacchettamenti ci vediamo già domani o al massimo dopo domani lo sapete detto questo a me non resta che salutarvi ringraziarvi soprattutto se siete arrivati fin qui e io vi dedico una buona giornata ciao ragazzi